Manca sempre meno di tradittori, all'obiettivo oppure questo fatto deve essere da un punto di vista, ma qua siamo aperti tutti dai, dal vostro periodo, oppure pensiamo prima c'è stata tradittori che manca, no, siamo tradittori dalla vuota salvezza, tradittori dalla vuota salvezza e cerchiamo di essere un pochino ambiziosi, vorrei arrivarci a fare la terza, l'ultimo internazionato in Casano Casetta, ecco. Cerchiamo di essere un pochino più ambiziosi e di fare queste tre vittorie presto, ma non perdiamo mani di vista che da dove siamo partiti la nostra solidità di società che stiamo lentamente acquisendo ci deve portare a avere anche piedi per terra, poi abbiamo il palazzetto pieno, vogliamo fortemente questi valori, non perdere questi valori, non voglio perdere l'attenzione della squadra, quindi ancora due partite prima della pausa cercheremo di giocarlo del massimo, però, ripeto, giochiamo ad Avellino e in casa non sassi, beh, questo vuol dire per noi che potremmo potremmo veramente incontrare le difficoltà che incontrano le squadre del nostro livello e quindi ritrovarci a febbraio per la pausa con i soliti 14 punti, questo si potrebbe trattare ancora poi dopo, quindi non perdiamo mai di vista la nostra realtà. Ripeto, poi, se presto arriveranno queste tre vittorie, vediamo a che punto della stagione siamo e vedremo poi se è il caso di alzare la sticetta, adesso la nostra concentrazione deve rimanere prima possibile raggiungere e poi vediamo.